Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa live, come state allora? Oggi tra l'altro partiamo subito con quello con cui eravamo arrivati diciamo alla fine dell'ultima live in realtà dell'altra volta che in sostanza era un po' Near no? Quindi avevamo proprio accennato un attimo a Near sia come moneta che come ecosistema in realtà principalmente legato soprattutto all'ecosistema Aurora che è una sorta di layer 2 di Near, di Near Protocol infatti se siete andati a sentire, e a sentire scusate, se avete visto nella documentazione di Aurora è proprio ben spiegato che in realtà loro sono come uno smart contract al di sopra della blockchain di Near e tra l'altro in questo momento non ci sono fee per poter usare la chain Aurora quindi in sostanza si dice, si può dire gasless in questo momento Ad ogni modo, parlo anche di Near perché in sostanza sta performando piuttosto bene in questi giorni adesso qui avevo preso se non sbaglio il grafico negli ultimi sette giorni quindi considerate che qui quando è sceso era un po' sceso tutto poi adesso era risalito anche un po', l'ecosistema Phantom aveva pompato per oggi in particolare, da ieri, anzi da stamattina in realtà, da oggi pomeriggio stamattina sta performando piuttosto bene ed in particolare avevo aperto anche, eccolo qua avevo aperto la pagina di Defayama dell'ecosistema di Aurora come vi dicevo prima che è questo layer 2 che però è quello che viene principalmente usato quindi quando si parla di Near in realtà non ci si riferisce di solito all'utilizzo del layer 1 di Near Protocol, vero e proprio, quanto di Aurora che ve l'avevo un po' accennato, è un layer 2 di tipo EVM quindi banalmente ci si collega con Metamask e in questo momento non serve avere nessuna moneta per pagare le fee in futuro, in futuro ovviamente questo non durerà per sempre quindi prima o poi bisognerà pagare e si pagheranno in ETH, in ITER a meno che non cambia qualcosa fino adesso io ho capito che quando arriveranno le fee si pagheranno con ETH detto questo vedevo una domanda su Aurora le gas fee sono ancora a 0? sì, sono ancora a 0 però ripeto, non so fino a quando rimarranno a 0 anche perché è ovvio che non può andare avanti per sempre così, no? anche perché vi ricordo che per fare diciamo un discorso un pochino più tecnico le gas fee sono proprio quello che impedisce ad una chain di essere attaccata con attacchi del tipo quelli di DOS cioè Denial of Service Distributed Denial of Service ah, in ETH ma che senso ha? non in NEAR questa è una domanda interessante perché in realtà l'obiettivo di Aurora è quello di permettere il pagamento delle fee in tanti token diversi magari anche in stablecoin e poi in realtà al di sotto viene fatto uno scambio con NEAR quindi NEAR viene comunque utilizzato per pagare la vera e propria transazione sul layer 1 però diciamo che ti viene mediato quindi a livello utente in realtà è più semplice se vuoi ok, detto questo volevo concentrarmi un pochino sulle prime piattaforme quindi Trisolaris che è il primo DEX, no? per TVL che ha il 72% della Dominance oltretutto cioè ci sono già 700 milioni di dollari su Aurora che è più o meno un po' di più della metà di quello che c'è su Harmony quindi non è che sia così poco il TVL che Aurora ha raggiunto ricordo che TVL sta per ah, è proprio anche scritto qua è Total Value Locked quindi si intende la quantità in dollari che è vincolata nei protocolli che ci sono oltre ciò quindi il primo che è Trisolaris me lo sono anche aperto qui così andiamo a vedere un pochino gli APR che ci sono ho visto una domanda che in sostanza eccola qua mi chiedeva che APR abbiamo su Aurora per l'appunto dunque sono interessanti secondo me su alcune coppie sulle stablecoin non sono esagerati qui se vedete c'è proprio la coppia USDC-USDT che però rende il 23% quindi è sicuramente buono ma non è fantastico come diceva vengo su Aurora solo per entrare in questa pool però ci sono sono sicuramente le più interessanti almeno a mio avviso quelle che contengono o il token Aurora oppure NIR che qui vediamo sotto forma di Wrapped NIR quindi W NIR ad esempio questa qui TRI NIR che rende il 194% vi ricordo che vengono pagate nel token TRI ok? che sta proprio per TRI Solaris oppure quelle che hanno il dual rewards cioè che hanno due token con cui vieni pagato il primo tipicamente è sempre TRI e poi ci sono o pagamento in Aurora oppure e queste sono nuove e anzi dovrei avere aperto anche un articolo medium esatto proprio oggi probabilmente fra poco magari fra qualche ora partiranno le doppie reward nelle pool contenenti UST NIR e NIR Luna AT l'hanno messo semplicemente per indicare che è una forma brigiata sia di UST che di Luna e verrà verremo pagati anche in Luna tant'è che adesso la percentuale qui probabilmente voi non riuscite a vedere la mia freccia comunque se vedete dice 0% in Luna nella coppia ad esempio AT Luna Wrapped NIR ma è semplicemente perché non è ancora partita quindi partirà nell'articolo diceva addirittura oggi quindi io ipotizzo fra qualche ora e partiranno anche gli incentivi in Luna quindi secondo me ecco adesso per fare un po' una sintesi non rimanere troppo su Trisolaris secondo me Trisolaris è sicuramente il più sicuro perché è quello che ha un TVL maggiore è quello tra l'altro adesso non ricordo a memoria ma c'è anche un fondo di investimenti che fa da liquidity provider qua su su Trisolaris e questo ci dà un diciamo una una sicurezza in più sul protocollo perché vuol dire che magari gente che emette decine se non centinaia di milioni di dollari sul protocollo si fida di mettere tutta questa quantità di soldi in questo protocollo e ad ogni modo il fatto anche che Terra abbia fatto una partnership con Trisolaris mi fa dire ok nel senso non credo che facciano partnership con protocolli che raggano magari il giorno dopo oltretutto un altro protocollo che secondo me è un po' meno interessante ve lo faccio vedere comunque è WannaSwap vediamo se mi si carica che è un altro DEX ovviamente non mi carica ok ce l'abbiamo fatta devo forse switchare no ok ci siamo ci siamo che è praticamente ripeto è un altro DEX e non ha secondo me le pool come Trisolaris quindi conviene un po' meno inoltre ha anche un TVL molto più basso diciamo che aumenta un pochino il rischio quindi dipende sempre quanto volete rischiare è ovvio che il token WANA che ha dei rendimenti molto più alti allo stesso tempo è anche molto più rischioso no invece una piattaforma più interessante tra l'altro ho visto anche un anzi più di un commento è proprio Rose che adesso eccola qui che cos'è Rose diciamo che è una una AMM solo per al momento stable swap pairs quindi un po' nello stile di curve dove si possono fare swap tra stable coin con poco slippage e sicuramente con e sicuramente con basse fee probabilmente 0.04% se hanno preso proprio ispirazione sempre da curve e oltretutto quindi a parte l'essere molto simile a curve nel fatto di essere una AMM con stable swap pairs ha proprio il modello di curve anche con i suoi token nel senso che adesso non ricordo se si chiamano Rose anche i token e si possono loccare per partecipare alla governance proprio come i curve i VE i CRV quindi anche Rose sta partecipando a un a un modello del tipo vesti in escrow token poi nelle farm ve le faccio vedere direttamente eccole qua quindi a parte quelle dove c'è anche Rose abbiamo la stables farm che rende il 18% ed è quella che contiene USDC USDT e DAI è quella proprio la principale come la tricurve su curve la frax farm perché c'è una partnership anche con frax finance vi ricordo che frax è un'altra stable coin parzialmente collateralizzata e parzialmente no questa rende il 22% e poi c'è anche la UST farm proprio perché come diceva anche qualcuno nei commenti c'era c'è anche una partnership con il mondo di terra ma la cosa interessante di Rose è che attualmente non è ancora in funzione ma penso arriverà è che in realtà vedete qua in alto c'è questo pulsantino borrow che al momento mi dice under construction che probabilmente permetterà di fare di mettere a collaterale magari anche gli LP token stessi che che ci sono qui su Rose per prendere in prestito RUSD se non sbaglio l'hanno chiamata R-U-S-D Rose used che appunto è una stable coin anche qui penso sovracollateralizzata più o meno nello stile di abracadabra se volete e quindi interessante da seguire ripeto al momento non è possibile utilizzarla al momento non è possibile neanche premere nella sezione per vedere com'è però sicuramente a livello di piattaforme su Aurora le più importanti sono senza dubbio secondo me Trisolaris da una parte come Dex e dall'altra parte Rose avevo visto una domanda un commento il problema di Rose è che Trisolaris ha annunciato un sistema di stable swap questo ecco se dovesse portarlo a termine sicuramente potrebbe togliere TVL a Rose diciamo che è interessante comunque Rose per la questione del borrowing di questa R-U-S-D anche se ancora a parte nella documentazione non è che si sappia molto quindi le stable coin sovracollateralizzate vanno sempre un po' testate nel tempo e soprattutto va garantita un'ampia liquidità perché è vero che il concetto è quello di di abracadabra però MIM si è riuscita a creare una liquidità enorme se andate a vedere su Curve è una delle pool più liquide quindi insomma interessante anche perché il fatto che non si debbano pagare transazioni rende la blockchain di Aurora ho visto che qualcuno mi ha chiesto quanto è sicura dunque a livello a livello filosofico se vuoi il fatto che non ci siano fee non è che sia un grande segno però bisogna dire che è sicuramente una cosa pubblicitaria e commerciale il fatto di non avere delle fee perché in realtà le fee ci sono ma vengono pagate probabilmente dai validatori in questo momento quindi non è proprio vero che le fee proprio non esistono semplicemente non le paghiamo noi utenti e quindi io la valuto una chain abbastanza sicura ecco devo dirti la verità i bridge sono molto comodi perché è possibile bridgeare praticamente da qualunque chain e si arriva su aurora nel particolare se vi interessa se andate su trisolaris in alto c'è la sezione bridge e vedete che potete bridgeare da ethereum da near da terra da bsc da avalash da polygon ma è possibile bridgeare anche da phantom basta se andate su synapse bridge se non sbaglio è compatibile anche con phantom quindi quasi tutte le chain sono compatibili e possono essere bridgeate ok dunque adesso quindi ecosistema near a parte che comunque secondo me ripeto mantiene il mio interesse già la volta forse non era la volta scorsa ma qualche volta fa vi ho detto alla fine essendo che è facile bridgeare ed essendo che le transazioni sono gratis anche solo per provarla come chain può avere senso oltretutto il token di trisolaris che è tri adesso lo prendo anche qua su coinmarketcap non è malvagio vediamo se me lo trova trisolaris non è malvagio perché non ha ancora una marketcap enorme vedete che ha qui una marketcapitalization di 58 milioni di dollari tenete presente che ovviamente fino a ieri era anche un po' inferiore era tipo 40 milioni di dollari adesso è cresciuto sia trisolaris che la quantità di token perché la marketcap dovete tenere in mente che non è data solo dal prezzo ma anche dalla quantità di token e trisolaris è un token ad alta inflazione quindi ogni giorno vengono emessi nuovi di questi token però a prescindere da questo ha una marketcap che 58 milioni diciamo che potenzialmente potrebbe raggiungere i 100 se andiamo a vedere un po' gli altri DEX che cosa hanno storicamente raggiunto ad esempio non lo so su blockchain di phantom quasi tutti hanno raggiunto i 200 quasi tutti i DEX sto parlando hanno raggiunto 200 milioni come marketcap anche su avalanche quindi può essere interessante soprattutto può essere interessante farmarlo più che magari comprarlo perché visto che in sostanza nelle farm di trisolaris si farma questo token è un token che può essere interessante insomma soprattutto se poi avviene quello che spesso accade quando un ecosistema in generale incomincia a crescere e cioè che all'inizio magari crescono tanto spinti dall'euforia le altcoin di quell'ecosistema e poi magari dopo un po' causa l'alta inflazione che tipicamente queste altcoin hanno si va a tendere di più verso la moneta dell'ecosistema che è poi l'asset più sicuro quindi in questo caso sarebbe near visto che l'ecosistema sarebbe quello di near va bene poi passando ad un altro argomento sempre rimanendo diciamo in ambito no passando proprio anche di chain volevo farvi vedere questa notizia qua che ha pubblicato pochissimi minuti fa Astroport cioè che hanno incominciato ad aumentare il il coefficiente di amplificazione della pool biluna luna che cosa vuol dire questa frase che sembra chissà che cosa allora più il coefficiente di amplificazione aumenta più la pool luna biluna diventa una pool come su curve quindi una stable swap dove le fee sono molto basse e si riduce al minimo lo slippage questo qui vuol dire infatti probabilmente lo scrivono anche qui nelle ultime due righe questo vuol dire più efficienza meno slippage e un tasso di swap migliore la cosa che mi ha fatto più ridere in realtà di questo tweet è che in sostanza nei commenti c'era qualcuno che anzi quasi tutti che dicevano ma che cosa vi mettete a fare queste cose qui se io ancora non vedo le reward che ottengono e oggettivamente hanno ragione perché tutti i decks nel senso non ho mai visto un decks che non puoi vedere le reward che guadagni farmando devo dire che forse un pochino se uno ci pensa potrebbe essere una mossa ragionata perché non potendo vedere le reward che prendi e non potendone neanche fare il claim perché non c'è il pulsantino claim in sostanza o si vergognano dell'APR come ho letto in un commento oppure vogliono impedire una sorta di dump perché non si possono dumpare i token nel senso se io non posso fare il claim non posso neanche venderli quindi spero che non sia fatto con questa intenzione del tipo è proprio apposta per non far vendere perché insomma è un po' è brutto e sicuramente secondo me è la cosa peggiore perché poi appena c'è la possibilità di venderli nessuno li tiene più cioè proprio dump immediato appena rendono possibile il claim comunque insomma volevo darvi questa informazione qui che è sicuramente importante perché biluna luna è una è una è una pair importante è una pair sulla quale si fa anche arbitraggio tramite sia Astroport ma prima solo su TerraSwap e e ad ogni modo vedremo gli aggiornamenti ragazzi io non ho news in anteprima da potervi dare su Astroport spero che il più presto possibile sia possibile sia vedere le reward che farne il claim anche perché cioè capisco che non sia una bella situazione a proposito di questo per cercare un po' di di venire ad aiutarci ho letto proprio prima questo tweet sempre di Alphadefi che vi consiglio di seguire su Twitter se vi interessa un po' le analitiche dei dati sul mondo di Terra principalmente che hanno pubblicato questo file che dopo vi faccio anche vedere che è questo commish più Astro Incentive APR Example for Luna UST allora il fatto che ci sia scritto Example non capisco se è un esempio quindi i dati che vi farò vedere sono solo un esempio se è reale e soprattutto non ho capito se include anche le reward pagate in Astro però a questo punto ve lo faccio vedere il file è questo qui ovviamente sono delle API quindi sono dei numeri anzi magari cerco di zoomarveli se posso non posso ottimo e comunque volendo prendere solo l'ultimo APR 0.2767 vuol dire un APR del 27% se non sbaglio i conti perché io moltiplico questa cosa qui per 100 e quindi dovrebbe essere il 27% che non è un APR gigantesco sulla pool Luna UST quindi non lo so non so se è un esempio non so se questo è il dato reale o se sono solo dei dati che hanno messo qui per far vedere come saranno le API però era giusto per darvi qualche spunto in più per poter fare una ricerca ecco nel caso secondo me 27% come scritto qui non è che sia un APR così grosso anche perché su TerraSwap andiamo a vedere insieme andando su CoinAll se prendo Pears e prendo Luna UST su TerraSwap ha il 45% di APR dato solo grazie alle commissioni sui trade quindi se fosse davvero 27% è molto molto poco tra l'altro ecco luna UST 22% senza le commissioni qui credo che non vengono inclusi le reward in Astro non lo so ragazzi cioè il fatto è che non avendo messo quanto si guadagna bisogna andare un po' intuito un po' a sperare di capire cosa succede quindi staremo a vedere tra l'altro avevo visto una domanda perché stable swap su Astro porta fee più basse è vero però luna UST non è uno stable swap luna UST è una normale pool come Uniswap versione 2 quindi come Terraswap comunque detto ciò volevo passare a quest'altra notizia quindi mi sposto leggermente in ecosistema Polkadot e poi rientriamo di nuovo nell'ecosistema Cosmos per dirvi innanzitutto che è finita anche la settima auction per le parachain la vinta Composable Finance come vi avevo anche già anticipato in realtà tutte queste parachain che adesso stanno vincendogli le auction del secondo giro andranno tutte live l'11 di marzo ma più che altro la vera notizia che vi volevo dare del mondo legata al mondo Polkadot era del fatto che con il lancio di Moonbeam il vero e proprio lancio cioè hanno abilitato le VM hanno abilitato anche i token transfer è partito il primo DEX se vogliamo su Moonbeam in attesa che arrivi poi magari anche Solarbeam perché vi ricordo che su Moonriver che era la che è la gemella tra virgolette di Moonbeam ma su ecosistema di Kusama c'è Zen Link vi faccio vedere anche la sezione Earn per vedere un po' gli APR qui sono più interessanti però devo prima collegarvi nella giusta blockchain altrimenti non ve li fa vedere ecco tra l'altro colgo l'occasione per dirvi che su Moonbeam ci si arriva con Metamask perché magari avevo visto un po' di domande che mi chiedevano ad esempio non riesco a vedere le reward di Glimur che è il token di Moonbeam per farlo dovete configurare su Metamask la rete Moonbeam con l'indirizzo che avevate inserito in fase di crowdlone chiaramente ah Solarbeam ha lanciato qualche ora fa su Moonbeam grazie mille non lo sapevo allora dopo lo andiamo a vedere subito subito dopo di Zenlink comunque le reward non fanno proprio schifo su Zenlink vedete tipo le stable USDC USDT 42.6% è chiaro che c'è poco TVL perché stiamo parlando di 1,79 milioni e di conseguenza già solo se arrivassero altri 4-5 milioni si abbasserebbe però in questo momento non fanno schifo poi c'è un single stake di Glimur al 18% e poi tante altre pool però a questo punto sono curioso anche di andare a vedere solar beam se è già attivo o se ha solo o se ha solo lanciato no aspetta solar beam o se ha lanciato anche per esempio le reward proprio dunque fammi andare su perché qui sono su Moonriver però però non mi fa ancora cambiare su Moonbeam quindi probabilmente lo hanno appena deployato perché non riesco a cambiare su su rete Moonbeam ad ogni modo solar beam è il primo dex su 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 Moonriver quindi io mi aspetto che arriverà la sua versione corrispondente su Moonbeam e I'm fake diceva che aveva già lanciato probabilmente hai anche ragione però non c'è ancora la possibilità di testarlo quindi vi terrò sul pezzo in questa cosa qui oltretutto a proposito di Zenlink che invece era quello che vi ho fatto vedere prima che già è live già si può depositare la liquidità tant'è che c'è già della liquidità depositata Zenlink in realtà non è solo su Moonbeam ma è un pochino su tante chain dell'ecosistema Polkadot in particolare sia su Moonbeam Moonriver e Bifrost queste tre sono quelle su cui è già attivo e in futuro sarà attivo anche su Akala e su Karira e Karira scusate anche su Karura che sono altre due paracei Akala e Karura sono sempre anche loro gemelle in particolare Akala su Polkadot e Karura su Kusama quindi insomma era interessante sarà un Dex Aggregator cioè che vi prende sempre il miglior tasso di interesse possibile ma Akala sarà EVM sì nel senso che lancerà la sua EVM e questo vuol dire che sarà possibile interagire su Akala anche con il classico Metamask in questo momento credo che cioè in questo momento non lo è ma non sono attivi neanche i token transfer su Akala hanno solo distribuito le reward del crowdloan tant'è che se voi avevate partecipato e andate a cercare il vostro indirizzo per esempio su Subscan vi trovate le reward arrivate se avevate partecipato da exchange alcuni le hanno già distribuite tipo Kraken ha già distribuito le reward alcuni no tipo Binance non le ha ancora distribuite per Glimur so che Binance non le ha ancora distribuite a meno che non abbia cambiato proprio negli ultimi giorni e anche su Parallel ecco su Parallel non ho ancora delle novità perché ho visto che molti avevano dei problemi però non vi so ancora dire quindi vi terrò aggiornati anche su Parallel se magari si sa qualcosa di più per chi ha partecipato al crowdloan tramite Parallel Finance ah qualcosina in Glimur la data Binance mi fa piacere forse era ieri allora che non aveva perché avevo sentito parlare di distribuzione dei Glimur addirittura a febbraio il che mi sembrava effettivamente assurdo visto che sono già state distribuite bisogna andare alla sezione Earn quindi grazie mille e UGcamp 93 spero che possa essere utile anche ad altri perché avevo visto un po' di preoccupazione per tutti quelli che magari hanno partecipato giustamente su Binance e che non si vedevano le loro reward arrivate nel proprio wallet un'altra cosa che vi volevo dire l'ho vista anche come commento qui in chat però devo andarla a beccare è che il progetto Desmos che se vi ricordate è legato al mondo Cosmos e in particolare è una chain a sé stante che fa parte dell'ecosistema di Cosmos ed è legato un po' all'identità digitale e ai social network decentralizzati il mondo è questo qui ve ne avevo anche già un po' parlato e sono andati live su Osmosis quindi adesso c'è la pool Atom DSM Osmo DSM il prezzo era partito intorno al dollaro adesso credo sia un pochino più basso anche perché c'era molta gente che già aveva preso un airdrop di DSM quindi magari l'ha liquidato quindi il prezzo è un pochino sceso tra l'altro ecco noto buongiorno questa mattina ho seguito Riccardo Montagnin molto interessante il progetto a cui sta lavorando mi ha dato alcune dritte sul tema sviluppo e quale linguaggio approcciare per la prima volta ecco sì Riccardo che tra l'altro è il tech leader di Desmos quindi lo saluto perché lo conosco anche insomma sono contento che tu lo abbia seguito e che ti abbia dato degli ottimi spunti ma è super sul pezzo lui per quanto riguarda l'ecosistema Cosmos in generale non solo non solo Desmos quanto il suo progetto in sé proprio ok ecco queste qui ragazzi sono le cose principali che vi volevo dire adesso che ci tenevo proprio a farvi sapere quindi magari mi vado a beccare un pochino di domande tra l'altro domani arriverà un video interessante vi faccio vedere una piattaforma molto particolare che secondo me non dico che è super mega innovativa però insomma dateci un'occhiata non ve la voglio spoilerare troppo oggi va bene ciao Ale potresti spiegarmi meglio la differenza tra memo e wrapped memo nella scorsa live hai chiarito che mentre memo è un rebase token wrap memo non aumenta di numero ma di valore ho capito bene si hai capito bene esattamente com'è possibile trasformare i memo in wrapped memo te lo faccio vedere comunque c'è se non sbaglio l'interfaccia su abracadabra quindi uno va su abracadabra nella chain di avalanche dunque fatemi mettere un attimo che arrivo su avalanche ci sono ok nella sezione borrow ah è anche su wonderland il wrapper perché io mi ricordo che sicuramente qui c'è su abracadabra c'è il wrapper però a sto punto se mi dite che c'è anche su su wonderland ci credo comunque nel caso c'è qui wrap vedete sono andato su abracadabra borrow wrapped memo e poi qui c'è la sezione wrap io metto che ne so 10 memo adesso ovviamente in questo account ne ho 0 e lui mi creerebbe il corrispettivo in in wrapped memo ad ogni modo se è anche su wonderland lo andiamo a vedere anche lì enter up comunque ecco il fatto di detenere memo wrapped memo sta un po' anche a te perché in realtà è tra virgolette il medesimo token se vuoi dunque dov'è che sarebbe quindi questo in bridge ah no wrap qui in alto perfetto si si forse è anche molto più semplice farlo direttamente su wonderland piuttosto che fare il passaggio su sobracadabra quindi qua mettete i memo e vi da il corrispettivo in wrapped memo tant'è che potreste fare la prova per vedere che effettivamente wrapped memo aumenta in prezzo a vedere che adesso il cambio 10 a 0,223 se lo fate domani il cambio è aumentato ok basta era solo per darvi anche questa informazione qui dunque per entrare su tom finance le gas sono le gas fee sono molto alte no su phantom le gas fee sono piuttosto basse quindi non non spendi troppo considera che chain come phantom harmony sono tutte chain abbastanza economiche quindi non dovresti avere problemi a livello di gas fee dunque domanda aspetta questa qui è un po' lunga quindi me la apro magari qua domanda 1 te come credi che avverrà il discorso ve 3 3 airdrop a utenti o ai protocolli per liquiditi share parto subito con risponderti con questa prima domanda allora penso che verrà data ai protocolli cioè perché nella documentazione non è scritto che l'airdrop verrà dato agli utenti bensì ai protocolli quindi immagino verrà data ai protocolli non so se verrà dato a tutti i eventi in parte uguale o se verrà dato in proporzione per il loro total value lock 2 forse mi sono perso un pezzetto se è entrato in yuzu swap oddio no non conosco yuzu swap proprio quindi quasi impossibile che io ci sia entrato 3 sei concorda nel dire che adesso stare su errond mayar non ha alcun senso tokenomics terribile e sviluppo lento secondo me cioè ve l'ho già detto più volte che in questo momento non è una blockchain che sto utilizzando e quindi non la sto neanche studiando troppo quindi non non voglio darvi un parere troppo significativo personalmente non la ritengo una chain che in questo momento ha senso utilizzare perché ci sono opportunità migliori da altre parti secondo me ultima domanda Akasaka che è praticamente un oracolo ultimamente ha azzeccato con tutto mi trovavo d'accordo no mi trovavo non concorde su rotation harmony Akasaka intendi quello su twitter se non sbaglio beh lui è un veramente super super famoso nel mondo cripto su twitter comunque eiale a parere tuo può avere senso dividere i propri bitcoin in tre sezioni un terzo da holdare un terzo da wrappare per usare nella defi e un terzo da depositare sulla cefai si ha molto senso la tua la tua suddivisione a mio avviso ha senso chiaramente dipende sempre dal capitale che uno ha però secondo me è una buona suddivisione quella che tu hai utilizzato quindi si ha senso ovvio ecco magari la sefai dipende quanto ti fidi della sefai al limite se proprio se non ti fidi puoi ridurre un po' l'esposizione in sefai ecco se invece ti fidi va benissimo la tua domanda su tarot ecco tarot è interessante secondo me ragazzi ho capito che bisogna mettere i lp e lui lupa con spirit swap andando in leverage quello che non mi è chiaro è cosa succede ai miei token in lp se ad esempio faccio leverage su phantom usdt e phantom sale cosa succede allora tarot l'apro anche così non rimaniamo sospesi è una piattaforma per l'appunto come dicevi tu di leverage farming che permette da un lato a chi come te vuole fare leverage farming di fare leverage farming dall'altro a chi non vuole fare leverage farming ma semplicemente vuole fare landing gli permette di prendere dei buoni interessi comunque la tua domanda me la rileggo anche un attimo era di cosa succede ai tuoi lp token quando fai leverage e uno dei due sale allora sai che quando tu fai leverage in realtà stai prendendo un prestito e nel prendere in prestito chiaramente sei sempre sottoposto a una liquidazione a un prezzo di liquidazione nel senso che finché sale va tutto bene in realtà quindi non dovresti avere problemi il problema è quando ad esempio quello che tu hai preso in prestito ok o comunque il collaterale che tu hai messo che poi è l'lp token che tu detieni incomincia a scendere pesantemente di valore e lì puoi essere liquidato quello è il senso però sto riflettendo ad alta voce perché in realtà anche se sale troppo probabilmente puoi essere liquidato adesso questa cosa qui dovrei un attimo guardarla meglio però stai attento perché secondo me anche se sale troppo puoi venire liquidato ah ecco tra l'altro si si liquida comunque infatti infatti devi stare attento perché sia se scende troppo che se sale troppo viene liquidato considera che comunque l'everage farming è alla ricerca dello yield quindi non è che gli interessi tanto magari quello su cui sta facendo l'everage ma più che altro magari quello su cui sta guadagnando lo yield detto ciò questa qui è una domanda interessante io ti dico che comunque anche se phantom sale rischi di liquidazione ma andrebbe approfondito meglio non voglio approfondire troppo ora perché sul sul momento dovrei rifletterci e magari rischio anche di confondermi con varie formule matematiche quindi non voglio fare brutte figure però sì occhio solo su tarot o in generale succede ciò no su ogni piattaforma di leverage farming puoi rischiare la liquidazione in realtà con la liquidazione si intende che perdi tutto il collaterale no di solito no di solito quando viene liquidato la liquidazione cerca di essere il 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 minor cerca di avere il minor impatto possibile quindi cerca di prendere solo quello che serve per chiudere la posizione e e rientrare nei margini di safety ok quindi no non per anzi spesso non viene liquidato completamente va bene questa è una bella domanda difficile anche effettivamente perché queste cose qui secondo me è la cosa migliore è vederle proprio con un excel dove ti fai i conti e ti iscrivi proprio secondo me la cosa migliore quando si fa leverage farming ti iscrivi i prezzi di liquidazione in quel modo sei un pochino più conscio di quello che stai facendo e di se phantom in questo caso dovesse arrivare a questo prezzo o scendere al di sotto di questo magari mi faccio arrivare la notifica al telefono così faccio qualche cosa ok perché fare leverage farming un po' a caso è sempre pericoloso dunque ciao Ale su Bifi Finance le reward sulle varie coppie ad esempio USDC e MI si viene pagati nel loro token o in stable potresti fare vedere anche un po' grazie mille dunque ti faccio vedere comunque tieni conto che rispondendo immediatamente mentre la tua domanda Bifi Finance essendo un autocompounder non non ti paga mai in un token diverso da quello che hai depositato quindi ad esempio cioè adesso per prendere proprio quella che mi citavi tu USDC MAI qui sono su Bifi Finance ma a livello di blockchain ma a livello di blockchain phantom vedi questo 29.74% tu lo guadagnerai sempre in USDC MAI perché quello che fa Bifi è che vende le reward che tu guadagni per comprarti le stesse che tu hai depositato quindi con Spooky Swap tu dovresti guadagnare il token BU e Bifi Finance ti vende il token BU 50% per USDC 50% per MAI e poi reinveste il tuo guadagno di nuovo in Bifi Finance e così via ok sfrutta l'effetto compound e tu vedrai però il tuo deposito crescere nel tempo questo questo è il senso di Bifi ecco colgo l'occasione per ringraziare gli farmer 91 che appunto l'average farming si può simulare su tulip e francium infatti ricordavo che li potevi fare proprio le simulazioni e vi consiglio vabbè insomma concordo grazie mille i farmer 91 perché su tulip e su anzi magari le apro visto che qui ho un computer per farvelo anche vedere allora tulip e francium colgo anche le occasioni per dirvi che sono su solana però dovrebbe esserci la possibilità adesso sto andando un po' a memoria ma forse mi devo collegare prima ma sì c'è la possibilità proprio di vedere la simulazione vediamo se riesco a collegarmi esatto vedete che lui andando a premere su farm in questo caso tra l'altro la leva è fino a 3x vi mette tutti vi mette tutti dov'è che vediamo dov'è che mi ricordo che eccolo qua simulator ok vedete ragazzi qui c'è la simulazione vi potete fare un po' di studi migliori detto ciò comunque io penso che un file excel anche per farsi il confronto non è male addirittura su francium e addirittura il grafico con stop loss hai ragione hai ragione adesso apriamo anche apriamo anche quello mi ricordo che tra l'altro era una cosa nuova avevano messo la possibilità di mettere lo stop loss direttamente nella strategia di leverage farming se non erro però lo vediamo subito sì ok quindi se io premo farm simulator esatto vedete si vedono proprio quindi ipotizziamo di fare queste cose qui ok esatto e poi tra l'altro qua in alto potete anche scegliere per quanti giorni investire vedete come cambiano le cose però adesso siccome queste cose qui vanno ragionate un pochino e non le uso da non le uso da un pochino quindi non voglio anche dirvi cose troppo sbagliate detto ciò ad ogni modo sicuramente prima di entrare in una posizione di leverage farming è meglio sapere quello che si sta facendo perché quando si prende in leva vuol dire che c'è un prestito e quando c'è un prestito c'è sempre un un rischio di liquidazione tutto qua poi se uno lo fa a livello professionale queste cose in realtà le sa personalmente non sono un mega amante del leverage farming anche per questo sono un po' arrugginito che dovrei un attimo rivedermele considerate che ogni piattaforma di leverage farming spesso ha anche la sezione di lending vi dicevo ad esempio di tarot che è molto più semplice si deposita banalmente e quello che si deposita è lo stesso collaterale che poi viene dato sotto forma di borrowing a chi invece fa leverage farming comunque ok hai sentito di Harmony che è andata down ieri sera ah no caspita ma è andata down che non funzionavano gli rpc o è andata down che proprio la blockchain si è interrotta perché nell'ultimo caso sarebbe molto molto più grave non lo so comunque no non l'ho sentita quindi grazie mille di avermi informato magari mi informerò un po' meglio anch'io ciao dove posso mettere in stake in glimur avendone meno di 50 grazie mille allora non sono mica sul pezzo su dove in questo momento si possa mettere su come si possa mettere in stake in glimur mi sto un po' informando anch'io in questi giorni in realtà sicuramente su lo facevo vedere prima cioè qua su zenlink adesso dovrei ricambiare blockchain c'era il single stake di glimur al 18% se ricordo bene che però non è il vero e proprio staking cioè questo qui è il semplice 19.97 è una sorta di single farming cioè guadagni token di zenlink dovrebbe esserci invece lo staking vero e proprio perché ogni parachain su polkadot ha i suoi collators che non sono dei veri e propri validatori però possiamo vederli come tali e comunque si può mettere in stake in tra virgolette la moneta glimur quindi vi farò magari rimanere aggiornati un po' anche su quello adesso non vi saprei dire dovrei andare un po' a pescarlo dunque ciao alle cose ne pensi del peg tomb phantom ho visto su biffy una pool tomb phantom con APY molto alto e se il peg è sicuro è una pool senza impermanent loss è come dici tu cioè se il peg se il peg resta è una pool senza impermanent loss bisogna dire che tomb finance è il protocollo più longevo di questo tipo qui cioè di praticamente stable pair algoritmica resiste da parecchi mesi quindi tra tutte le varie fork di tomb finance il più sicuro è tomb finance l'originale tra l'altro ieri anzi forse l'altro ieri ma ieri ve l'ho fatto vedere in video hanno annunciato anche una serie di airdrop quelle di tomb e in sostanza per chi detiene tomb t bond e t share ci saranno degli airdrop di due o tre nuovi progetti che sono stati annunciati da Henry Hale che è tra virgolette quel miliardario che è il proprietario il founder di tomb e tra l'altro avete cioè avete tempo anche adesso perché verranno fatti snapshot per i prossimi 120 giorni per questo airdrop quindi qualora vi interessasse c'è questa possibilità quando sarà live secondo te sushi come dex multichain ed order book io intanto ho messo un cipino da un k guarda se lo sapessi sarebbe una grande notizia cioè è una notizia da insider quindi non la so purtroppo anche perché quando lo annunciano a meno che non siamo proprio in bear market dove lì allora anche un annuncio del genere non fa notizia ma se lo annunciano veramente una cioè vedo già un buon un buon risultato per sushi dunque io oggi sono uscito io oggi sono uscito a 75% da unite comunque allora fammela aprire mi pare che si stia abbassando ancora di più ma il prezzo di unite cosa che è normale visto che era troppo alto eccolo qui ok infatti a 3.49 e a 3.49 one considerate che deve arrivare a 1 e quindi un po' come vi avevo detto nell'ultima live cioè il mio pensiero è che continuerà a scendere chiaramente quando arriverà a 1 ci sarà il momento della verità nel senso che se il peg resisterà allora la piattaforma può avere futuro e ushare in quel caso avrebbe una sicuramente andrebbe bene perché ripeto vorrebbe dire che la piattaforma regge e c'è sicurezza nella piattaforma se invece unite non riuscirà a reggere il peg e allora crolla un po' tutto quindi questo qua è il senso ci può stare aver prelevato il 75% alla fine il prezzo di uscere è sui 2800 quindi più o meno simile all'ultima live che era l'altro ieri sì era l'altro ieri gli APY sono comunque ancora piuttosto alti quindi alla fine ha senso prendere dei profitti e uscire cioè queste qua non sono piattaforme dove rimanere forever and ever io un po' come vi dicevo la volta scorsa è da un po' che sto vendendo unite anche perché in realtà prima lo si vende meglio è visto che unite in sostanza fra un po' varrà sempre meno dovrebbe tornare fino ad uno e poi sicuramente anche ushare io ho ancora un po' di ushare ce l'ho sempre nella boardroom che produce unite poi vendo unite questo è il senso però ci sta anche uscire al 100% alla fine questi qua sono un po' dei ponzi travestiti che possono avere senso ma diciamo che secondo me è meglio comunque considerarli un ponzi quindi quando uno fa profitto può anche dire bene ho fatto profitto basta non devo rimanere per sempre qui insieme alla piattaforma questo è il senso cosa ne pensi di velas ottima ottima domanda non ho ancora approfondito tantissimo ragazzi ho visto che è una chain che evidentemente è molto interessante perché voi me ne avete parlato tanto comunque la sto un po' approfondendo quindi magari ve ne parlerò meglio un pochino più avanti ciao alle qualche previsione su quando inizierà il bear market ragazzi le previsioni non sono ancora un meteorologo e comunque stando a quello che diceva Daniele Sesta ci manca ancora poco poco e poi parte un bear market no perché lui diceva adesso sto andando a memoria però tipo metà gennaio fine gennaio e poi basta no quindi stando alle sue parole dovremmo finire a breve potrebbe anche avere ragione io non mi aspetto dei pump micidiali non credo che ancora siamo in un bear market perché tipo oggi l'ho scritto anche su Twitter mi pare che le top performer erano tipo Shiba e Doge però ecco non mi aspetto mega pump magari un periodo ancora di lateralizzazione piuttosto se non ancora un pochino a scendere come faccio a spostare liquidità su Trisolaris e dunque lo dicevo prima c'è la sezione Bridges cioè nel momento in cui tu hai la tua liquidità sull'ecosistema Aurora su Metamask impostato su Aurora puoi andare su Trisolaris leggevo adesso 7000 bitcoin trasferiti da Xapo a Binance chissà cosa ci fanno con questi 7000 bitcoin va bene Tectonic ha qualche audit sì adesso non mi ricordo chi ma sì ha un audit se non sbaglio sto andando a memoria però ricordo che quando l'avevo un attimo analizzata aveva anche un audit considera che poi Tectonic era anche incubata da Particle B per cui sì ha un audit dunque ciao ciao a tutti i portafogli per le operazioni quando ti colleghi alle blockchain li hai sotto forma di estensione del browser quasi tutti poi ovviamente tutte le estensioni possono essere collegate però ad un hardware wallet quindi l'estensione serve tra virgolette come mezzo per potersi interfacciare con il sito ciao Ale prima live grandissimo un'informazione quale procedura mi conviene utilizzare per portare liquidità su Harmony partendo da Binance ho sempre i dubbi a inviare coin su una chain sbagliata grazie per i tuoi contenuti sempre ben spiegati e semplici esiste un modo semplice per capire su quali chain inviare coin allora partendo da Binance e arrivando fino ad Harmony magari correggetemi se esiste una maniera migliore qui mi ricordo che era già stata fatta una domanda simile ed erano stati più bravi eravate stati più bravi voi in realtà di me se non sbaglio una cosa interessante una cosa intelligente potrebbe essere quella di andare in BSC prima e poi utilizzare l'Harmony Bridge per passare dalla BSC ad Harmony oppure andare su Polygon visto che comunque puoi prelevare su Polygon con Binance e poi da Polygon andare su blockchain Harmony oppure se puoi spostarti da da Binance puoi metterti tipo su Crypto.com che permette i prelievi di Harmony anche altri exchange come Uobi se non sbaglio permette il prelievo direttamente su Harmony secondo me questa è la cosa migliore ecco poi ringrazio ancora una volta YFarmer91 che le sa tutte e ha messo il link quello lì credo che sia il link il il file drive contenente praticamente i migliori bridge per passare da Chain a Chain quindi è ottimo BSC Synapse Bridge per Harmony ma se non sbaglio dalla BSC c'è proprio il bridge ufficiale di Harmony adesso lo apro anche Harmony Bridge tra l'altro avete visto che l'Harmony Bridge ha integrato anche la blockchain di terra questo non è male adesso vediamo se me lo apre se non sbaglio proprio da da poco ha aperto ha aperto anche alla blockchain di terra il bridge ovviamente ci impiega un tot a caricarlo forse devo mettermi sulla chain di Harmony Harmony Minute già ci sono vabbè ragazzi giustamente il bridge non mi vuole caricare ma sono quasi sicuro 99% che sicuramente nell'Harmony Bridge ufficiale c'è il bridging con la BSC quasi 100% adesso oh è andato è andato ragazzi sta caricando è ancora bianco ma sta caricando la sta facendo troppo difficile io ho sempre spostato i miei one direttamente da Binance alla chain ma hai ragione in realtà anche io solo che adesso credo che abbia disabilitato i bonifici temporaneamente quindi giustamente se uno ha dei se uno ha dei one e li vuole inviare sulla chain di Harmony in questo momento non può farlo direttamente tramite Binance vabbè ragazzi si è capito che questo bridge non funziona non ha voglia di aprirsi quindi non lo leggiamo più ciao le conosci Waves Exchange è un exchange del 2016 ma non ne parla nessuno forse perché non è affidabile io non ne parlo perché non lo conosco in realtà quindi non lo so non lo so non so dirti ciao le si è esposto su qualche token del mondo P2E e quali dunque se valuti DeFi Kingdoms come mondo P2E cosa che potrebbe essere allora sì perché Jewel lo sto farmando cioè sono in una pool dove c'è anche Jewel però poi non altri token P2E comunque giustamente ragazzi so che lo continuo a dire ma vi giuro che prima della fine di gennaio arriva vi faccio vedere anche un po' arriva il video sul portafoglio perché è giusto per trasparenza anche nei vostri confronti Sai come funziona per le carte cashback crypto.com per le tasse guardate ragazzi non so cioè mi piacerebbe poter rispondere a queste domande sulle questioni tassazioni il fatto è che io mi affido al mio commercialista per queste cose qui e non credo di essere la persona migliore che vi può dare una risposta ecco più che altro che vi può dare una risposta alla quale voi dite ok mi ha detto che è così allora faccio così anche perché a memoria non le ricordo purtroppo queste cose una domanda ma in bear market la strategia migliore di investimento è il farm sulle stable dunque sicuramente ha senso anche farmare sulle stable ma poi se uno ha un portafoglio che si è creato con senso logico quindi dove praticamente ci sono monete che hanno fondamentali o comunque che ci piacciono in un modo o nell'altro ha senso anche continuare magari ad acquistarle sotto forma di pack ha senso fare dei ribilanciamenti qualora una di queste scendesse o salisse troppo e ha senso metterle a rendita con vari staking ha senso metterle a rendita magari in pool di stable pair parlo ad esempio di pool come luna biluna o pool come ethereum st ethereum queste cose qua ok dunque cosa ne pensi dello staking di axie infinity no ragazzi è partita la credo che mi sia partita una chiamata quindi tipo non vedete più la mia faccia aspettate top vediamo se così mi vedete ok cambio un attimo telecamera gli ultimi minuti mi vedrete così tra l'altro esatto chi ti chiama non ne ho neanche idea perché ho il telefono al contrario quindi non so chi mi stia chiamando magari era Daniele ragazzi che voleva entrare in live io non gli sto rispondendo e niente attualmente come si può mettere rispondiamo un pochino alle ultime domande ragazzi che poi vi saluto e vi auguro anche una buona serata dunque attualmente come si può mettere a rendita sushi si può mettere in stake e prendi x sushi ma si può fare solo su ethereum se non sbaglio dunque cosa ne pensi della defy su stellar e concludo con questa che ragazzi la conosco cioè la conosco poco stellar io ero andato a vederlo per cercare di studiarlo un po' però non è che mi abbia convinto così tanto anche comunque le piattaforme che ci sono non hanno tanta liquidità insomma non mi convince al 100% quindi in questo momento un po' la conosco poco e in secondo luogo non mi interessa così tanto va bene ragazzi dai io vi saluto spero che passiate una buona serata noi come sempre ragazzi ci vediamo domani però con un video non in live e poi ovviamente sabato pomeridiano però ciao a tutti ragazzi buona giornata grazie mille davvero di essere stati qua ciao ciao grazie mille davvero grazie mille davvero